un nemico nei container tutti a destra tutti a destra si era quello che prima quindi c'abbiamo uno là uno là l'altro dove potrebbe essere no non è un grande problema mh la pallina può essere facilmente ce ne sono due o uno là non capisco ok non sparai ma lì non ci arrivano un momento c'è un nemico là dritto ce n'è uno quindi sono due là e uno là ok 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 aspetta è k2 houston perfetto k2 la fine la e la cesta houston perfetto uno è là e due è là dovremmo provare ad avanzare dovremmo avanzare per questo lato per questo lato perché c'è sta uno là ed è troppo pericoloso si però stiamo troppo scoperto tu dovevi rimanere là però eh no mi piace ma arrivano i pallini addosso il muro eh ho capito riesci a darmi una mini copertura per quel lato là eh lo so io provo a coprire il k2 se riesci a coprirmi avanza il container verde dai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti